Andrea Melchiorre di Uomini e donne con un'altra, la reazione di Giulia Uomini e donne, Andrea Melchiorre bacia un'altra e Giulia Latini si sfoga sul social. Nei giorni scorsi non si è parlato d'altro che di un presunto flirt tra due protagonisti di Uomini e donne, ovvero l'ex corteggiatrice Giulia Latini e l'ex corteggiatore e tentatore, ora fashion blogger, Andrea Melchiorre. La conferma di una frequentazione tra e due ci è arrivata proprio tramite alcune storie spubblicate da Andrea sul suo profilo Instagram e ieri è arrivata anche la dolce dedica di Giulia dal suo account, ma la storia sembra essere tramontata ancora prima di iniziare. . Secondo una testimonianza arrivata al blog Isa Echia, ieri sera, Andrea, durante una serata trascorsa in un locale a Porto Cervo, è stato avvistato in compagnia di una misteriosa ragazza bionda con la quale ha trascorso gran parte della serata a parlare e a scambiarsi baci in mezzo alla folla. . Se per molti la ragazza può essere la Latini, sappiamo con certezza che non è così. Giulia Latini reagisce alle foto di Andrea Melchiorre mentre bacia un'altra. . Andrea Melchiorre è stato avvistato da alcune fan durante una serata a Porto Cervo in atteggiamenti intimi con una misteriosa bionda, che molti hanno immaginato fosse Giulia Latini, con la quale il ragazzo aveva confermato di aver iniziato una frequentazione, tuttavia, dagli stories della ragazza, sappiamo che non è possibile si trattasse di lei. Giulia, infatti, si trovava sempre in Sardegna, ma in una zona e in un locale diversi da quelli del Melchiorre e con indosso uno outfit totalmente diverso da quello della ragazza immortalata. . L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, quindi, sempre tramite il suo profilo Instagram, ha condiviso un breve video in cui chiedeva 5 minuti di vergogna per la brutta figura fatta da Andrea Melchiorre, mandando poi un bacio ai suoi sostenitori. . Che la storia fra i due fosse solo una montatura? O semplicemente Andrea ha già cambiato idea? .